Sono entrati dalle fogne, sono entrati e hanno chiesto di aprire il cavo della banda. Hanno fatto, hanno cercato di sbalizzare, non sappiamo quante cassette sono state sbalizzate. Faccio questo, come sono entrati e sono usciti dalle fogne. Hanno fatto proprio il buco nel pavimento, sono usciti da un buco nel pavimento. Sono entrati dalle fogne e sono usciti dalle fogne? Come hanno fatto a fare questo buco? Con che materiale? Scusate, io non lo so, io li mi sono trovati davanti e basta. Lei è il direttore? Quanti dipendenti c'erano all'interno? Eravamo in tre, siamo rimasti dentro in due perché uno dei tre è riuscita a scappare sentendo le mie grida. Una piccola conduttazione ma non hanno infierito contro di me. Direttore... Direttore... Sì, questa è stata prida di un vino Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.